Abbiamo raccontato tante storie. In ognuna abbiamo messo la passione, il sentimento, la semplicità. Con questi ingredienti vogliamo continuare a narrare i momenti lieti che vorrete affidarci. Vogliamo continuare a legare le nostre immagini alle vostre emozioni. Questo è il nostro auspicio, grazie a chi ci ha scelti e a chi continuerà a sceglierci.